La scusa qual è? Di mettersi finalmente d'accordo, alla luce, Berlusconi e Bersani. Ora troveranno un accordo per formare un governo, ma loro due sono quelli che hanno messo in ginocchio il paese. Durerà un anno? Uno. Poi ci saranno nuove elezioni e il Movimento 5 Stelle cambierà il mondo. Questa è già una rivoluzione. È già cominciata. Non l'ho voluta io. Non è la mia. Viene dalla rete, viene da internet.